Ciao a tutti! Allora, noi oggi realizzeremo insieme una ricetta nuovissima, anche diciamo molto diversa dalle solite ricette che normalmente preparo, perché andremo a realizzare dei noodle di riso fatti in casa, cioè, o meglio, andremo a cucinarli. Non mi sono mai avvicinata a questo tipo di prodotti, eccetera, perché ho sempre pensato che, diciamo, non fossero molto sani, no? O comunque buoni in generale. Normalmente trovavo sugli scaffali dei supermercati questi noodle già pronti, eccetera, e l'idea non mi convinceva per niente. Poi un giorno ho trovato un prodotto diverso, cioè, adesso ve lo faccio vedere, sono dei noodle da cucinare, quindi da preparare in casa, e quindi noi andremo a realizzarci vicino, diciamo, delle verdure fatte in padella, in una maniera molto molto semplice e molto buona, che si adattano perfettamente al tipo di noodle che andremo a cucinare. Io ho scelto di preparare, adesso ve li faccio vedere perché li voglio andare ad aprire, giusto per darvi un'idea. Ok, i noodle sono fatti così, vedete? Li trovate, io li ho trovati al supermercato, quindi molto semplici da reperire, sono fatti di riso, quindi, insomma, sono senza glutine, non si cucinano come, diciamo, la pasta esattamente, poi vedremo perché, però sono veramente pronti in 4 minuti, quindi semplici, è un'ottima alternativa al classico piatto di pasta. Quindi restate qui con me e prepariamoli insieme. Allora, abbiamo detto prima, noodle di riso, qualche cosa ci occorrerà, semplicissimo, una cipolla, ok, e una zucchina, un pochino d'olio, un pizzico di pepe e un po' di sale. Adesso andremo a tagliare la zucchina con la cipolla e andremo a far cuocere tutto in padella. Allora, prendete la zucchina e andate a tagliare, va bene, le estremità. Dopo averla lavata, semplicemente la dividete un pochino così a metà, ridividete, un pochino a striscioline, e poi andate a tagliare così a pezzettini. Stessa cosa fate per la cipolla. Quindi tagliate così la cipolla, ok, levate questa parte, l'andate a tagliare così e poi a ritagliare. In questo modo resterà croccantina, anche se cotta in panella. Ok, ora un pochino di sale, pepe, olio e accendete il fuoco. Allora, diciamo che stiamo preparando dei noodle all'italiana, cioè nel senso che non ci sarà salsa di soia o qualcos'altro, insomma, carotine, eccetera, ma zucchine e cipolle, perché secondo me è una cosa veramente da preparare a un pranzo pronto in cinque minuti. Quindi molto facile, semplice, comunque continuiamo. Intanto mi raccomando, ricordatemi di mettere a bollire l'acqua, quindi la pentola con l'acqua per i noodle. Allora, giusto per darvi un'idea, ho trovato questi, 250 grammi di noodle, sono certificati insomma vegani, biologici e diciamo che 250 grammi normalmente sono due porzioni, quindi andrò a suddividere, insomma, per realizzare un piatto solo. Ecco qui, qui è quasi pronto il tutto. Ok, salate l'acqua e andate ad inserire i noodle, ok? Mescolateli un pochino, aspettate 3-4 minuti e poi scolateli. Allora, sono pronte, anche se la luce ora non rende molto bene, se volete potete aggiungere un pizzico di zenzero, diciamo, macinato in polvere, gli dà veramente quel tocco in più. Altrimenti, insomma, aspettate i noodle e poi, insomma, li andate a condire con queste meravigliose zucchine e cipolle. Allora, una volta scolati i noodle dovete fare una cosa che io non ho avuto il coraggio di fare, a parte ora scolarli qui, cioè, poi l'ho fatta, ovvero, passare dell'acqua fredda, ok? Una volta scolati i noodle, quindi sopra di essi. Credo che serva per non farli attaccare l'uno con l'altro, ma non ne sono sicura di questo, però comunque sia va fatto così, ok? Il procedimento è questo. A questo punto andate a mescolare il tutto, ora vi faccio vedere che bellissimo piatto che viene e soprattutto molto molto buono. Eccolo qua, guardate, il piatto è pronto e ora ce lo andiamo a mangiare. Allora, eccolo qua. È fantastico perché veramente in dieci minuti avrete il pranzo pronto. Adesso andiamo ad assaggiare. Sono buonissimi. Buonissimi. Allora, io mi devo ricredere perché vi giuro che avevo tantissimi dubbi nel preparare i noodle, quindi ci ho messo anni prima di comprare dei noodle, diciamo, non già pronti, quindi questi qua da fare, però io vi giuro che sono pazzeschi. E poi fatti così, veramente per me spaccano. Cioè, molto meglio di altri tipi di ricette orientali, magari, non lo so, secondo me mischiare un pochino di ricette italiane a quelle che sono prodotti orientali, etnici, insomma, al su perché. Quindi mi dispiace solo non averli provati prima, però vabbè, c'è sempre tempo per tutto, quindi allora io vi consiglio vivamente di preparare questo piatto perché a me veramente è piaciuto tantissimo, quindi ci ho pensato così. Ho detto, vabbè, ma se noi mischiassimo un pochino di zucchine, cipolle, in realtà, per me l'idea è geniale. Ora andrò a finire questo piatto, guardate qui, e niente, insomma, è senza glutine, vegano e soprattutto facile, pronto in 5 minuti. E poi, una volta che si provano, cioè non si abbandonano più, non so per quale motivo, cioè nel senso, ti viene proprio voglia di dire, guarda, adesso non li vado a comprare, però, fateli fatti in casa, cioè nel senso, non prendete il prodotto già pronto, che c'è un sacco di schifezze, fatelo in casa così ci vogliono 5 minuti e vi hanno un piatto delizioso, super delizioso. Ve l'assicuro, parola mia, che praticamente ho tentennato e da quando sono diventata vegana, non ho mai mangiato un noodle prima, quindi, però c'è sempre tempo, l'ho detto, quindi, buon appetito! E nulla, provate la ricetta, ciao!